Che ogni vita merita un romanzo l'ha detto Flaubert ma poi lo ha ripreso Erwin Posler in un saggio che noi useremo come libro guida nel nostro cammino di dodici lezioni per arrivare a mettere insieme quella che è la capacità e il desiderio naturale dell'uomo universale di raccontare la propria storia a qualcuno e gli strumenti che un narratore un romanziere costruisce nel corso del suo mestiere della sua vita saranno l'intreccio costruire un buon incipit saper scegliere le giuste parole o dosare gli ingredienti di una scena nel modo più interessante possibile cominceremo dal costruire una mappa con immagini e oggetti presi dalla nostra vita quotidiana dalla nostra casa per partire poi a trovare la propria storia e quindi rendere in qualche modo l'ordinario straordinario. Io sono Marta Pastorino, questo è Scrivere di sé, il nuovo corso online della Scuola Olden.